a shot homes primo boss allora questo boss periodicamente spawna questi fire fragment che vanno uccisi in questi quattro angoli della mappa in teoria però ogni volta gli nabbi non lo fanno si inizia a grande il fire fragment si picchia si uccide si esce da questa zona perché quando lui muore lascia quella il cerchio di fuoco a terra poi si uccidono queste cose d'acqua perché fino a quando non muore il boss viene immune dai danni e si ricorda insomma a picchiare il boss ma ci sono di nuovo questi dosi d'acqua ah no il fire fragment vediamo se me lo fanno portare qui che sono nabbi non è che ci pensano ok nuovo i dosi d'acqua non è che ci pensano guarda si ripiglia di nuovo il fire fragment guarda guarda te lo stanno facendo poi che deficienti veramente si che il boss è morto però cioè non sono capaci proprio cioè lo fanno perché ormai hanno le armi abbastanza potenti per farlo però non è che ti possono fare il boss allora allora Grazie.